eccoci amici siamo qui che stiamo sistemando ancora le api guardate abbiamo aperto ci siamo ritrovati praticamente dovuto togliere tutti i telai perché erano pieni di fango guardate la famiglia seguitemi guardate la regina ha sciamato perché ha capito che era in una situazione brutta e difficile ed è venuta qua adesso gli ho messo due telaini provvisori e noi adesso andiamo a portare sotto prendiamo prima un rametto mi raccomando sempre appoggiate gradualmente dobbiamo farla stare qui dentro volevo farvela vedere vedete lasciamato capito che era in una situazione non bella pensate che ci sono dentro anche i fuchi guardate quindi è una famiglia che si stava preparando alla sciamatura dove io non mi sono accorto ci sono dentro dei fuchi eh volevo farvi vedere se riuscivo la regina abbiamo vista prima ragazzi non è facile fatti vedere gli spettatori vogliono vederti dove sei guardate i fuchi vedete i fuchi che ci sono siamo a fine settembre ce n'è ancora qualcuno ragazzi eh per quelli che dicono ah non ci sono fuchi non ci sono fuchi i fuchi ci sono ci sono pochi pochissimi quello è vero però vi assicuro che se devono fecondare qualcosa ce n'è ancora niente ragazzi qua non riesco a farvela vedere perché rimane nascosta va bene la mettiamo comunque qui vediamo un po se ci si vuole far vedere guardate i fuchi guardate i fuchi fuchi guardate i fuchi guardati infoggiiamo qui facciamola entrare un attimino ecco qua adesso siamo qua che vi facciamo andare via guardate, guardate come chiamano l'importante è quello va bene ragazzi adesso io qui ho una sgrullattina veloce chiudo subito e al momento lasciamo così ragazzi vi chiedo solamente iscrivetevi al canale alla prossima da Antonio Di Stefano mi raccomando mettete un like e azionate la campanellina se no non potrete vedere gli altri video nuovi, ciao alla prossima